Avvocato Nuzio Costa, secondo lei la giustizia predittiva è uno strumento utile e sarà anche possibile dare risposte certe o quasi al cliente che comunque intende agire per via legali? Guardi, non soltanto sarà uno strumento utile quello della giustizia predittiva, ma ne devo dichiarare che molto spesso proprio l'avvocato si trova di fronte a un video, il cliente che si approccia al proprio studio e vuole sapere quanto dovrà pagare e qual è la prognosi sul risultato. Non servirà specificamente a questo sostanzialmente perché la giustizia predittiva deve raggiungere degli obiettivi più alti, appunto quello di dare certezza al diritto, ma sicuramente anche in questo ambito la giustizia predittiva riesce a dare uno strumento all'avvocato in fase di analisi, in modo che l'analisi del caso concreto verrà studiato accuratamente in un tempo molto più breve rispetto a quello che è derivante dalla propria esperienza personale, perché l'esperienza di ciascuno di noi è comunque un'esperienza limitata nel tempo, limitata ai propri casi, mentre l'esperienza comune che può dare l'inserimento di tutti i dati che vengono elaborati da un algoritmo, è l'esperienza comune di tutti che viene messa a disposizione del ciclo, quindi sicuramente avremo professionisti più preparati, professionisti che avranno la capacità di analizzare e di interpretare meglio il caso che viene proposto loro dal cliente, e quindi di dargli una prognosi sul risultato. La ringrazio. Grazie a te.